Io non posso dirvi di più, però qui sotto c'è il famoso ritratto di Dorian Gray, Oscar Wilde. Siamo alle prove di Dorian Gray con Matteo Setti, è lì dietro, però io non ve lo voglio fare ancora vedere, anzi non ve lo farò vedere, perché scopriremo questo spettacolo dai diretti interessati. Venite con noi. Rodrigo Basilicati, rappresentanza di Pierre Carden, sei produttore esecutivo e anche scenografo di questo Dorian Gray che sta per partire. Non è il primo spettacolo che producete, so che avete già lavorato anche con Matteo Setti. Come è nata questa collaborazione e cosa avete fatto prima? Abbiamo fatto, ormai 5-6 anni fa, siamo partiti con il Casanova, un musical a tutti gli effetti, nato da una bella congiuntura di idee tra Carden e Daniele Martini che ho conosciuto, tra l'altro casualmente, per cose che non hanno una ninerenza particolare con l'arte, con il teatro. Comunque ci siamo conosciuti e a Carden è piaciuto subito l'opera anche ed è partita questa avventura, la prima. È stato un successo, l'abbiamo mosso comunque in teatri come il Bolshoi di Mosca, come il Gran Teatro del Cremlino, poi anche il Teatro dell'Opera di Atene, a Parigi, all'Espace Cardin, soprattutto alla piazza San Marco per l'Overture. Idem due anni dopo con Amleto, quindi anche quella è stata una cosa più asciutta, diciamo è stato, si è voluto non mettere degli artisti, dei ballerini, ma solamente sette cantatori, sempre con le musiche di Daniele Martini, la nostra produzione, adesso siamo approdati a Dorian. Invece Matteo Setti come l'avete incontrato? Fu un caso, un vero caso, dovuto al fatto che a un certo punto Cardin volle sostituire il Casanova, il protagonista che aveva già scelto. E quindi in tempi record abbiamo chiesto a tre artisti di presentarsi a Lacoste, dove stavamo facendo la presentazione. Il Louberon, giusto? Era un francese vicino a Davignon e tra questi tre artisti c'era Matteo e fu scelto, fu scelto da Cardin. Come mai l'idea di portare Dorian Gray? È stata tua o di Daniele? No, no, questa è stata un'idea proprio di, veramente misto tra l'idea di Daniele e di signor Cardin. Era nata addirittura come un'opera con voce e balletto. Dopodiché, in definitiva, quando Cardin ha sentito a Parigi la voce di Matteo, allora lì si è immaginato di avere una sola figura a fianco a lui, che poteva essere un mimo. E lui in particolare pensava al ragazzo appena incontrato, 19 anni, oggi 20 anni, vicino alla Maison, alla Maison di Couture. E' incontrato e fermato, così è stato. Cardin lo ha assunto, diciamo, lo ha preso nella Maison per attività di vario tipo, di rappresentanza, ma pensava a qualcos'altro, in particolare a questa produzione. E così è stato. Allora è chiaro che c'è tutto un processo di sviluppo, di crescita anche con l'artista Thibaut Servier, in questo caso è un giovane attore francese di Parigi, che fa con la scuola di teatro, partecipa in alcune trasmissioni, fa cortometraggi, qualche film, insomma qualcosa fatto, e ovviamente è rilebore della sua attività. Certo. Ora vedremo, adesso abbiamo le prove finali. Siamo sul palco, hai già delle prove? Sì. Non vogliamo svelare troppo della scenografia, perché so che sarà particolare. Sì, è un po' il terzo personaggio dello spettacolo, perché interagisce e interagirà con due artisti. Come il quadro, d'altronde. Un pochettino sì, un pochino sì. Poi c'è un gioco anche di proiezioni, di intradimensioni, c'è molta volumetria, spazialità, primi piani, piano retrostante, insomma c'è molta attività figurativa e gli attori quindi, in particolare Matteo, un po' la vedette, canterà per un'ora e mezza quasi. E recita anche, perché non è solo cantante. Anche è vero, Matteo Setti in questo caso si è cimenta nella recitazione vera e propria, guidato da Daniele Martini e Wayne Fox. Un altro grosso nome da citare. Sì, Wayne Fox che ci ha aiutato ormai dall'inizio di queste prove, di questo nuovo spettacolo e ci segue in tutto e ha dato un impianto sicuro, diciamo così, all'opera, partendo dall'idea di Daniele Martini. Quindi ci saranno 15 brani, poi parleremo come saranno con Daniele Martini, il recitato, due persone in scena, scenografie particolari, costumi. I costumi, sì, sono due costumi. Sì, dobbiamo citarli. Due costumi e sono di Pierre Cardenzi, è un'idea sua, addirittura il costume di Dorian Gray. È un costume quasi classico ma contiene stilemi nuovi, tipicamente Carden, dei tagli strani qua a livello di corpo e una piccola coda che in realtà vuole far ricordare un frac. Ma Matteo si presta a questo stile. Sì, benissimo. Addirittura un fiocco dell'epoca che ricorda l'epoca molto amore. Uno jabot? Sì, e invece no, invece l'anima di Dorian, ovvero Tibo, no, sarà tosto nudo, con un pantalone nero semplice, con del vinile tipico del design di Cardenzi, del vinile sia, credo, sulle ginocchia se non sbaglio, ma soprattutto una cintura molto ampia. Non diciamo tutto però. Sì, una cosa semplice però, tutta l'attenzione va agli artisti, assolutamente. Tra l'altro ci saranno già due date, una presentazione proprio dove dicevi nel Chateau Lacoste dell'Uberon e poi alla Finicie di Venezia. Il 27 luglio prossimo, come molto vicino, noi faremo un'anteprima, potremmo chiamarla, dell'opera completa, anche se in un contesto a cielo aperto, per cui non sarà come vogliamo, come dovrebbe essere. La vera prima mondiale fatta a teatro sarà la Finicie di Venezia il 6 e il 7 di agosto. Uno spettacolo impegnativo e spero che poi possa girare dopo queste date. L'idea c'è? Sì, questa è l'idea, sì, dell'anno prossimo. Che tipo di teatri cercate? Cerchiamo dei teatri, beh, partiamo dalla Finicie, già questo dice molto, non siamo partiti da un teatro qualunque e cercheremmo di rimanere nel circuito di questo genere di teatri, in Italia perlomeno. Dopo vedremo, comunque annunceremo questo, non prima di quest'estate ma neanche dopo il Natale, diciamo. Quindi in cui in mezzo riusciremo a esplicitare le nostre idee, il nostro progetto. Mi sto incuriosendo tanto. Adesso andiamo a sentire gli altri creatori e poi ne parliamo ancora. Grazie, Rodrigo. Bene, grazie. Eccolo qui, l'autore delle musiche di Dorian Gray, 15 aree scritte da Daniele Martini. Ciao, benvenuto. Ciao, grazie. Tra l'altro tu hai già lavorato per questa produzione per Amleto e Casanova. Sì, ho scritto entrambi, ho scritto le musiche e i testi di Casanova, di Amleto, dramma musicale, e anche di Dorian Gray, le musiche e i testi, e tutta la trascrizione originaria del testo, insomma, tutta l'elaborazione originaria. Chiedo anche a te, come è nata l'idea di portare proprio questo romanzo di Wilde? È nata quasi per sbaglio, perché stavamo parlando con il signor Carden qualche anno fa e lui mi chiese ma che idee hai nel cassetto? E ogni tanto gli tiro fuori qualche appunto, qualche cosa, qualche bozza di lavoro e gli parlai di un balletto, perché originariamente per me Dorian Gray era un balletto per tre uomini e una donna. E poi da cosa nasce cosa? E alla fine siamo arrivati a un progetto di questo tipo, perché siamo andati a trovare assieme io e Matteo Setti, il signor Carden, l'estate scorsa in Francia, e abbiamo iniziato a parlare di un progetto più legato invece alla canzone, alla musica, come linguaggio diverso dalla danza, elementi innovativi, cose di questo tipo. Finché poi Natale, quando ci siamo rivisti, ho detto sì, facciamo uno spettacolo musicale su Dorian Gray, ci stai. E ci siamo stati tutti, insomma è una sfida, ci siamo buttati. Quando io per le mani come adesso un autore mi vengono tante domande, però dobbiamo essere un po' stringati. Quindi, prima di tutto, perché hai scelto di mettere solo Matteo Setti e la sua anima in scena, sfrondando di tutti gli altri personaggi? Allora, grazie per la domanda perché è bellissima. Temo un po' risponderti perché significa un po' svelare. Non sveliamo, quello che puoi dire. Questo spettacolo. Però diciamo questo, che chi di noi non è Dorian Gray? Lo siamo un po' tutti. Però spesso siamo tutti anche Lord Henry Wharton e Basil, tutti quanti noi abbiamo avuto questi ruoli nella vita. E a volte siamo stati probabilmente anche il ritratto, abbiamo fatto da specchio per qualcuno. E quindi, nell'ottica di utilizzare linguaggi moderni, ho provato a spostare i personaggi al di là del limite del palco e farli arrivare fino alla platea. Ecco, non farmi dire di più. Quindi ci sarà un abbattimento della quarta parete? Ci abbiamo provato. Ma quanto sono curiosa. 15 aree, come sono i genere? Sono un genere pop, orchestrale, moderno. Ci sono dei miei stilemi, insomma, di scrittura, quindi ammiccano un po' a una tessitura leggermente classica, ricordano in alcuni momenti la composizione, insomma, ad altri tempi magari, un po' come formazione, ma soprattutto per il mio gusto personale. Ecco, quindi sono un genere moderno, un rock italiano in alcuni momenti, in altri invece un po' più pop, un po' più internazionale. Quindi nelle corde di Matteo Setti? Assolutamente sì. Questa volta sono stato, più delle altre volte, mi sono divertito a fare il sarto, cioè a cucire su misura addosso. Couturie ci sta, eh? In questo caso ci sta. Esatto, in questo caso ci sta. Abbiamo cercato di cucire il più possibile le cose addosso alle caratteristiche di Matteo. Questo non è un limite, è una sinergia, eh? È una sinergia. Ti dà la possibilità di sperimentare delle cose nuove, sempre rimanendo sul mio, io non esco da quello che sono, eh? Sono sempre me stesso, però di ottimizzare, diciamo. Ecco, è bizzarro anche parlare del recitato, perché comunque mettere tutti i personaggi in uno, nel ritratto di Dorian Gray, non è semplice. Quindi da parte della scrittura, com'è stata? Non delle canzoni, ma del testo? Beh, è stato un passaggio che ho dovuto superare, come sottolinei tu, perché all'inizio hai un testo che è distribuito per più personaggi. Però alla fine, rimanendo su, l'argomento principale di cui parlavamo prima, che è la domanda, ma io posso essere mai stato nella mia vita un po' Lord Henry, un po' Basil, un po' Dorian Gray? Che è una domanda, chiaramente, che possiamo farci tutti in qualsiasi momento. Allora, partendo da questa domanda, uno trova anche la risposta, trova la forma anche per la scrittura. Riesce a portare tutto in un unico personaggio, in un unico crocevia, diciamo. Quindi il primo appuntamento adesso nell'Uberon, poi ci sarà la Fenice di Venezia, siamo curiosissimi di vedere questo spettacolo, poi anche in giro per l'Italia. Grazie Daniele. Grazie a voi, grazie a te. Abbiamo detto con Rodrigo Basilicati che in scena, oltre a Matteo, ci sarà questo personaggio che interpreterà l'anima. È un mimo, ma non è solo un mimo, è francese, si chiama Thibaut Serviere e adesso gli facciamo qualche domanda. Buongiori Thibaut, benvenuti. Buongiorno, grazie. Il parlo sul man francese, è giusto? C'è vero. Quelle è la tua formazione? Che hai fatto prima? Allora, ho cominciato con le art del circo, durante 10 anni. Quindi, due formazioni, sono trapézista fil di ferrista, ho passato dei concorsi in Francia e ho studiato a Parigi. E, dopo le mie studi classiche all'università, ho fatto un baco scientific, perché ho amato anche le scienze, ho cominciato le cours di teatro. Quindi, ho studiato al Conservatorio di Arbondissement a Parigi. Poi ho cominciato la danse contemporanea, il chant, la percussione, un po' di scrittura, tutto ciò che è lié al teatro in questa globalità, ma non solo il gioco. Quindi, potremmo dire che la mia formazione è il teatro, la danse e il chant, per essere complet. Ok, allora, ha cominciato nel circo, dove è stato trapézista per circa 10 anni, ha accompagnato anche l'università, quindi ha fatto l'università con gli studi scientifici, perché ha anche questa passione. E poi ha cominciato con lo studio del teatro, della danza, del movimento e ancora adesso sta studiando e scrive anche. Che cosa tu scrivi? Ecco, partecipa anche all'idea di elaborazione di testi, perché è un amico che scrive, quindi collabora anche in questo. E quando sei venuto in contatto con Pier Cardin e Rodrigo? Allora, questa è la più grande storia che è molto interessante e misturante. Allora, questa è la più grande storia che mi ha parlato di una riunione di Dorian Gray e io lavoravo in la società come haute d'accueil. E quando mi ha visto, mi ha detto che è lui, abbiamo l'Âme di Dorian Gray, perché ho i capelli che... Fatalità, le destino? Ah, sì, c'è questo. E noi ci siamo chiusi come questo, e mi ha chiesto cosa faccia. E mi ha detto che ho fatto, mi ha fatto una formazione teatrale, sono comienzo, mi ha lavorato a Parigi per la TV, per il teatro in Francia. E quando mi ha detto questo, mi ha detto, molto bene, ho un progetto per voi, ma bisogna che vi vogliono giocare. Quindi, io gli ho detto, d'accordo, io gli ho dato le dati, e mi ha detto, non, è troppo tardi. Quindi, io gli ho detto, posso giocare qualcosa di oggi, ora? E mi ha detto, dove è ora? E io gli ho detto, in il vostro lavoro. Il mi ha detto, ah, buono, potete giocare in il mio lavoro? E io gli ho detto, se non ti piace in il vostro lavoro, non ti piace sulla scena. Se non ti piace in il vostro lavoro, non ti piace sulla scena. E mi ha detto, ma potete giocare qualcosa di oggi? Quando lavoriamo circa 20-30 ore di tue attrazione per settembre, on ouvre un tiroir dans sa tête e on può choisir... Il repertoire, oui. C'è ça, on può choisir un texte contemporane, classique, differente personaggi. E du coup, j'ai fait un choix qui lui a plu, visiblement, puisque je suis là maintenant. Interessantissima questa cosa. Allora, lui ha incrociato per caso Pierre Cardin, che usciva dalle prove, dalle ripetitioni. Lui faceva tutto un altro lavoro per Pierre Cardin. Appena l'ha visto, gli ha spiegato che lui fa teatro e studia. E gli ha detto, io potrei fare delle prove con voi, un provino in questa data. Pierre Cardin ha detto, troppo tardi. E lui ha risposto, posso fare qui un casting, una prova qui davanti a voi, nell'ufficio. L'ha fatto, è andato a ripescare nel suo repertorio, nel suo corso di teatro. E gli ha detto, se non ti piace qui nell'ufficio, non ti piacerà neanche in teatro. Invece, evidentemente, a Pierre Cardin, questo ragazzo è piaciuto. E adesso è in scena qui. E le rôle che tu joues ici, dans cet spettacolo, c'est quoi? Allora, je suis l'âme de Dorian Gray. L'âme mauvaise ou l'âme plus... Allora, les deux. Ah, oui. In funzione di l'histoire, io vorrei evoluire per le senti che attraversa Matteo, che giù Dorian Gray. Quindi, al principio, io vengo bene, io ho trovato Londra, io sono giovane. E poi, più il tempo passa, come dice l'olive, ci va se deteriorare, si va aggraver. Tu vorrei di Bacchira, un giù per vivere? Non. Ah, non, quindi tutto il corpo? Ce sarà soprattutto il corpo che va se distruire. E, après, il y a une petite subtilité dans le spettacole, c'est que Matteo, je ne peux pas trop en dire. Non, non, non. Disons que moi, j'incarne aussi la jeunesse di Dorian Gray d'Andy, de 20 ans, qui ne va pas forcément vieillir. J'incarne quand même cette jeunesse là, en plus de l'âme. Et ça, c'est une subtilité qu'on perço normalement facilement. Allora, senza svelarvi tutto, comunque, lui interpreterà l'anima di Dorian Gray, l'anima di Matteo, che all'inizio sarà buona, poi ci sarà una metamorfosi, non ci sarà il trucco e quindi sarà tutta un'espressività corporea. Non vi dico di più perché dovete vedere lo spettacolo. Merci bien, t'espoir. Merci. Sous-titrage ST' 501